Sono immagini troppo forti, immagini che colpiscono molto, io sinceramente non saprei cosa dire tranne di chiedervi, per favore condividete questo video e facciamo arrivare la sofferenza di questi profughi e il viaggio della morte che loro fanno, condividete. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.